Parleremo in questa lezione dei social media e di come questi strumenti possono essere utilizzati da parte della pubblica amministrazione per informare e coinvolgere i cittadini. Cominciamo con il vedere qual è la diffusione dei social media. I social network sono ormai sempre più uno spazio virtuale di incontro e aggregazione. Facebook conta oggi 1,86 miliardi di utenti iscritti. Il 66% di questi utilizza la piattaforma tutti i giorni. Su Twitter sono ogni mese 328 milioni gli utenti attivi, 700 milioni quelli di Instagram. I numeri di fatto ci dicono non è più possibile sottovalutare questi mezzi, né tantomeno far finta che non sia una realtà consolidata. Si tratta anche di capire quindi quale può essere il ruolo di questi strumenti da una prospettiva che è quella della pubblica amministrazione. Per molto tempo la pubblica amministrazione si è rivolta al cittadino partendo dal presupposto che fosse il cittadino che dovesse andare verso la pubblica amministrazione, verso gli sportelli, verso i siti informativi delle istituzioni. I social media invece rappresentano un cambiamento di prospettiva. È la pubblica amministrazione che va a informare, va a relazionarsi con il cittadino, proprio laddove ci sono questi spazi virtuali di incontro e di aggregazione. Con l'avvento dei social media quindi anche la pubblica amministrazione è chiamata a confrontarsi con nuove forme di comunicazione rivolte ai cittadini. Siamo infatti di fronte a un cambiamento epocale nel modo in cui le pubbliche amministrazioni comunicano e soprattutto interagiscono con i cittadini. E si consolida sempre più la consapevolezza che i social network diventano strumenti strategici atti a migliorare la relazione cittadino-istituzione. Qual è il contesto di riferimento? Dal punto di vista legislativo la legge 150 del 2000 invita l'APA a sviluppare relazioni bidirezionali con cittadini ed imprese, grazie a opportunità di partecipazione e accesso agli atti pubblici. In questo contesto l'intento è di facilitare il passaggio ad una comunicazione pubblica social, vicino alle persone che permetta l'APA di essere dove sono i cittadini e quindi in rete, nei luoghi virtuali di aggregazione. Così i social network e sentiment analysis diventano strumenti strategici atti a migliorare la relazione amministratore-cittadino e anche la figura professionale del social media manager, spesso improvvisata e non riconosciuta, assume un ruolo invece indispensabile in prospettiva ed è sempre più richiesta all'interno della pubblica amministrazione. Andiamo a vedere ora qual è il grado di diffusione degli strumenti social all'interno della pubblica amministrazione. Tramite social analytics per la prima volta sono stati raccolti e analizzati 600.000 dati prodotti dalle attività delle amministrazioni su Facebook e su Twitter. Attualmente il 48% dei comuni ha una pagina ufficiale su Facebook, mentre su Twitter la percentuale dei presenti scende al 37%. Le regioni su Facebook sono attualmente 8 su 20, mentre sono 9 su Twitter. In termini di bacino potenziale è il Comune Torino a raccogliere più followers, circa 68.000 e fan poco meno di 25.000. Per quanto riguarda le regioni, la Lombardia primeggia con poco più di 12.000 followers seguita a poca distanza dal Piemonte, mentre su Facebook il podio va alla Puglia, con poco meno di 17.000 fan, seguita dalla Lombardia e dalla regione Emilia-Romagna. La capacità di interagire con i cittadini emerge dall'analisi delle mention su Twitter e dell'engagement su Facebook. La città di Milano risulta capofila sia per il numero di citazioni, 13.386 in più di sei mesi, che per coinvolgimento dei cittadini in termini di like, di commenti, di condivisioni di post spontanee, grazie a una media di 385 interazioni al giorno. Sul versante delle regioni la Lombardia è il primo posto su Twitter e, seguita su Facebook dell'Abruzzo, che si piazza in testa la classifica, anche se stimola solo 550 interazioni al giorno. Ma andiamo a vedere ancora qualche dato. Dei 13 ministeri del governo italiano, 5 hanno un profilo su Instagram e solo 3 di questi sono account verificati, cioè hanno la famosa spunta blu. Il primo account ufficiale e verificato è quello della Farnesina, che è stato inaugurato nel 28 novembre del 2016. Il secondo è quello del MIBACT, che però, come recita la descrizione della pagina, è scrivibile come profilo dei musei del Ministero dei Beni Culturali e quindi infatti pubblica solo foto di attività inerenti ai poli museali italiani. Il terzo è invece quello del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, quindi del MIUR. Oltretutto, oltre a questi, ci sono quelli di due profili non verificati, quello del Ministero della Difesa e quello del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Ma quali sono le prime reazioni a questo percorso, a questo processo di utilizzo di social network da parte della pubblica amministrazione? Beh, le resistenze e i problemi ovviamente ci sono. Prima di tutto di natura culturale. Le sfide sono quelle dovute alle ridotte dimensioni degli organici, alle difficoltà di inserire le nuove figure professionali necessarie, come quello del social manager, così come il necessario cambio di mentalità richiesto nei confronti di coloro che hanno ancora una concezione della pubblica amministrazione come sistema chiuso. Però ci sono anche le prime soddisfazioni e sicuramente i primi traguardi raggiunti che fanno ben sperare rispetto al futuro. Per esempio, i primi passi del ricorso e dell'utilizzo di Facebook e di Twitter hanno fatto sì che molto spesso questi social network venissero utilizzati come canali ufficiali per gestire eventi di emergenze. Oppure il ricorso ad Instagram per promuovere la promozione dei territori che ha grande seguito. Oppure l'utilizzo di WhatsApp e di Telegram per coinvolgere e per dialogare direttamente con i cittadini, appunto nella gestione ordinaria ma anche nella gestione emergenziale nel campo della comunicazione. Insomma, la presenza sui social non è dovuta e non è conseguenza solo del volerci essere, ma è anche lo strumento ed è indicatore di un nuovo modo di volersi porre nei confronti del cittadino e quindi di rendersi sempre più raggiungibili e di interagire con i cittadini attraverso i nuovi strumenti messi a disposizione dai social. Uno strumento sicuramente utile in questa riflessione nel rapporto tra social media e pubblica amministrazione è il VATEMECUM pubblicato dal Formez PA nel 2011. È un po' datato, però contiene una serie di indicazioni e di riflessioni sicuramente ancora di grandissima attualità. La prima considerazione che viene fatta nel VATEMECUM è che non esiste alcun obbligo normativo per la pubblica amministrazione per essere presente con un proprio presidio istituzionale su uno o più social e che questi strumenti non sostituiscono i canali tradizionali di comunicazione attraverso la quale l'amministrazione comunque si deve rendere disponibile, ma che diventano strumenti complementari. Infatti nel momento in cui una pubblica amministrazione decide di essere presente negli spazi del web sociale deve essere consapevole che sta passando da un modello di comunicazione verso il cittadino a uno strumento invece di comunicazione con il cittadino. Un cambiamento che comporta la conoscenza non solo di un particolare strumento, ma anche di diverse dinamiche relazionali. Attraverso una presenza consapevole e pianificata all'interno dei social network, la pubblica amministrazione può iniziare un nuovo percorso di avvicinamento e di apertura ai cittadini, in grado di favorire lo sviluppo di processi virtuosi di collaborazione e stimolando la partecipazione e la cittadinanza attiva. Queste sono considerazioni all'interno del VATEMECUM. La centralità che gli strumenti social stanno assumendo all'interno della pubblica amministrazione è testimoniata anche dalla nascita di un gruppo informale di comunicatori pubblici, che si richiama all'hashtag SocialPA. Nel marzo 2017 è stato pubblicato un libro con il pensiero delle diverse esperienze ed è che viene così presentato. Negli ultimi anni non solo la tecnologia sta evolvendo con una velocità che neanche la legge di muro riesce più a descrivere, ma anche la comunicazione e con essa le sue regole è soggetta a continui e repentini mutamenti. Social network come Facebook, Instagram, Twitter e chat come Telegram, Messenger e Snapchat stanno riconfigurando giorno dopo giorno le dinamiche e comunicative, formando nuovi linguaggi, nuovi servizi e anche nuove figure professionali. Di fronte a questi cambiamenti, le pubbliche amministrazioni italiane, le aziende pubbliche e gli enti statali stanno cercando di tenere il passo, abbandonando la naturale propensione alla comunicazione top-down in favore di un sistema a rete che cerca di coinvolgere i cittadini in una logica osomotica. Per far questo però sarebbero persone preparate, professionali, che sappiano come imporre questo cambiamento culturale nell'approccio, nell'organizzazione e negli strumenti di lavoro. Al centro di questo dibattito c'è anche Forum PA che nell'edizione del marzo 2017 ha dedicato alla PA Social e alla nuova comunicazione pubblica un convegno presiduto da Francesco Di Costanzo, coordinatore del gruppo di lavoro PA Social. Nell'ampio di questo convegno sono stati fatti importanti annunci che vale la pena riprendere perché possono considerarsi la visione e lo scenario per i prossimi anni. Caterina Perniconi, capo ufficio stampa del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ha annunciato ad esempio il rilascio di un bot per Facebook e per Messenger che permetterà l'automazione dei processi comunicativi in chat sui social network. Il bot sarà in grado di rispondere in tempo reale 24 ore su 24 alle domande degli utenti su notizie e indicazioni pratiche. Il robot per chat rilascerà inoltre informazioni comunicati stampa e accoglierà segnalazioni richieste da parte degli utenti. Triccando Invio un messaggio sulla pagina Facebook del Ministero sarà automatica l'attivazione della chat, a quel punto basterà indicare l'argomento desiderato e ricevere immediatamente le informazioni necessarie. Qualora non dovesse esserci una risposta immediata alla questione posta sarà possibile rilasciare un messaggio al cui il Ministero risponderà negli orari di ufficio. Come vedete quindi non solo si tratta di sperimentare una nuova forma di linguaggio ma anche nuovi strumenti di rapporto tra il Ministero, quindi l'istituzione e i cittadini. Quello che però il dibattito attuale mette in evidenza è che probabilmente la legge 150 del 2000 a cui facciamo spesso riferimento comincia a essere datata e superata rispetto a l'esigenza che i nuovi strumenti stanno mettendo in evidenza. Ad esempio anche la distinzione tra URP, ufficio stampa e portavoce non è mai stata così anacronistica. Urge dunque una nuova idea di organizzazione strutturale nella gestione della comunicazione all'interno della pubblica amministrazione. Tra le ipotesi concrete la concezione di un nuovo ufficio di comunicazione, stampa e servizio al cittadino che sia unico e che sia integrato e che si occupi dei contatti con il pubblico e la gestione all'accesso pubblico, della redazione delle notizie, del trattamento dell'informazione nei rapporti con i media, che sia in grado di analizzare la citizen satisfaction e la rilevazione sistematica dei feedback dei cittadini, che sia in grado di gestire le campagne di comunicazione e l'organizzazione di eventi e quindi anche la comunicazione interna. Quindi una struttura che tenga conto di tutte queste esigenze non è attualmente facile da immaginare all'interno della pubblica amministrazione, ma momenti come quelli che stiamo portando avanti servono proprio per capire come portare avanti un'innovazione non sia solo di linguaggi, ma anche organizzativa e culturale all'interno dell'APA. Grazie. 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 Grazie.